Direttore Giammarino, amichevoli che serviranno sicuramente per la ripresa del campionato, l'ha sottolineato anche il mister, come sta vedendo questa squadra in questi giorni? Siamo a lavorare forte, abbiamo fatto un lavoro molto fisico, sono messi in evidenza alcuni ragazzi bravi, Vinozzi è un giocatore importante per il Pineto, anche Galeano ha fatto bene, sono giocatori su cui noi contiamo, quindi speriamo bene. La possibilità a questo punto anche di vedere alcuni ragazzi pescati dall'Ionioris che potrebbero dare una mano da qui all'inizio del campionato perché sicuramente alla ripresa quest'anno sarà un campionato ancora duro come quello dello scorso anno? Sicuramente, noi però con i ragazzi ci lavoriamo tutti gli anni, negli ultimi cinque anni abbiamo vinto tre volte, siamo arrivati tre volte terzi ai giovani di serie, quindi abbiamo preso il premio, è una squadra che Pineto ha sempre puntato sui ragazzi, sui giovani, adesso stiamo vedendo di trovare qualche giovane che arriverà nei prossimi giorni, 2002 qualche 2000, lo vediamo, lì dobbiamo rinforzarci perché qualche under purtroppo con qualche problema in più, dobbiamo avere un qualcosina in più di alternative e stiamo vedendo sul mercato dei professionisti, però piano piano penso che questa squadra sta andando sulla strada giusta, forse i risultati non ci sono stati favorevoli, qualche errore di troppo su qualche episodio che ci ha penalizzato, però il calcio è fatto così, ci sono annate che non gira bene, però siamo convinti di poterla cambiare questo trend, quindi come ogni anno lotteremo fino alla fine per cercare di raggiungere il massimo obiettivo, poi vediamo. Crede nella possibilità di questa voce che girano negli ultimi giorni una possibile seconda riapertura di finestra di mercato invernale? No, io credo che già hanno deciso di riaprire il mercato, penso che sia una cosa inutile, che non fa bene al calcio perché chi sbaglia deve sbagliare, fa parte del gioco del calcio, il mercato non si può aprire sempre, non può essere sempre aperto, anche perché si è chiuso una settimana fa, dieci giorni fa non è possibile riaprirlo il 24, però se hanno già deciso non possiamo farci nulla, spero che non ci sia una nuova riapertura, ogni anno ci sta qualcosa di nuovo, l'anno scorso è stato aperto sei mesi il mercato, non è giusto per le società serie che si impegnano, ci sono società che cambiano tre squadre, non va bene, io penso che non sia giusto, però io non comando nulla, ci atteniamo a quello che c'è alle disposizioni della federazione, però credo che non sia giusto riaprire il mercato. Voi avete cambiato alcuni giocatori in fase di mercato, per quale obiettivo finale? Sicuramente quello di centrare, quello dei play-off, che sarebbe un grande obiettivo per questa stagione, visto poi come è andata la prima parte del campionato. Certo, noi come ogni anno vorremmo fare un campionato importante, l'anno scorso abbiamo fatto, quest'anno eravamo partiti bene, però poi, ripeto, qualche cosa non ha funzionato, anche da merito nostro, sicuramente, però l'obiettivo è sempre quello di fare il massimo possibile.